Ha sollevato un'ondata di emozione in Bangladesh l'assassinio dello scrittore e blogger Aviti Roy, noto per le sue critiche all'islam fondamentalista. Roy, che aveva anche la cittadinanza statunitense, è stato assalito da uomini incappucciati e armati di coltelli e macete nella città di Dhaka. Ho visto uno sconosciuto tirare fuori un grande coltello e colpire la vittima, prima da dietro e poi sulle spalle. Ho gridato per chiedere aiuto, ma non è venuto nessuno. Aviti Roy aveva ricevuto diverse minacce per i suoi libri che stigmatizzano l'azione dei gruppi religiosi più radicali. Dopo il suo assassino si sono svolte manifestazioni di protesta per la lentezza delle indagini. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!